Atenzione, questo video contiene bestemmia e insulti, sempre sento un pubblico sensibile semplice di chiudere il video Benvenuti a tutti ragazzi, sono Marchisa99 e benvenuti in questo nuovo video Siamo qui oggi nel dodicesimo video della Road to Gold Quest'oltre siamo come al solito insieme a Matteo Che sta giocando, ecco, Jungle Io sto giocando a Caterina Mid dopo tanto tempo se non sbaglio che non l'ho giocata Mid O forse l'ho giocata proprio nell'undicesimo, nel decimo, non mi ricordo L'ho giocata in Gesù Aldo Ok Ricordiamoci che Marchisio ha scritto a Kai Renis, gli ha risposto Eeeh E' confermato che Marchisio è Napoli Vi consiglio di Anzi, se volete tenere vi aggiornati c'è anche la nostra pagina Facebook che adesso sto iniziando a far Ma gliene frega qualche cazzo qualcuno Eh non lo so, magari se interessa, se interessa io lo sto dicendo, no? Dico gli oli pubblico delle volte Diciamo più o meno Non seguitelo Vi travierà Matteo, l'hai detto con una laggata assurda Non seguitelo Vi travierà Adesso, oggi abbiamo, stasera abbiamo Matteo che lagga Ma anche no, perché Allora, io ho 48 ping fisso Ma l'input va a caso Io laggo Io laggo Cioè lagga di connessione ma non lagga Lagga ma non lagga Cioè c'è ma non c'è Cioè, ehm... Sì, quello Avete capito Marchi Eh Pardoni No, no, sto guardando Bravo Bravo Stai arrivando Zed Matteo C'è Zed Vienici Non ho vita È al 2 Tu, Warda Warda I'm coming Ha flashato Aspetta Perfetto Perfetto, Matteo Grazie Mi hai fatto fare Una kill Scusa se Se te l'ho stilata Però Mi serviva Ecco No, non me l'hai stilata In che senso non te l'ho stilata Io volevo, cioè Dovevi parlo Io L'ho fatto lento apposta, sinceramente Posto mar, però Stai zitto perché Perché di sì Perfetto Capito, Marchi Abbiamo un intruso Ma non intruso Ciao Una Abbiamo un nero Che non si vede Letteralmente Ho molte cinture Senza motivo Mar Praticamente Cioè Abbiamo iniziato una partita Io sono ecco Jungle No Ho detto E vabbè Abbiamo sciacco contro Starto da red buff Ho fatto il red buff Veloce Oh mio dio Sto laggando in una maniera assurda Ho fatto il red buff Veloce E tipo Mi sono ritrovato Andare da sciacco Al blu Sillargli il blu Dopo averlo stunnato Ucciderlo Fare il first blood Perché tipo Sciacco è scarso Ti sto gankando mid Ti conviene aspettare Matteo perché non ho vita Si aspetta Lo vuol Mi sono ritrovato Mi sono ritrovato Lo vuol Un attimino Sei secondi Matteo quando vuoi Per uso la W Sorry mate Vai con la Vai back Questi non sono Questo pure Vai back Quello è tu invece Vado back va E poi Attento a sciacco Sì sì È arrivato Zed Fino fiero al 2 Pensando di killarmi E c'è morto anche lui Come un coglione E il marchese ha preso la kill Vabbè abbiamo fatto due flash però Abbiamo usato due flash Sciacco ha usato L'ignite Zed Ha usato Il flash Quindi è stato worth it Fanculo tutti Te lo aspettavi Vero Matteo Sì me lo aspettavo Tantissimo Se capite appena Quella voluta avanzare E ha anche Resettato l'animazione Dell'autoattacco Quel tizio Lì si può dire Chi? Sciacco Io ho preso Le rune a D Vero Quindi mi farò Il devore Tu cosa dici marchese Me lo faccio Il devore Sì che me lo faccio Ah se vuoi Io non ti dico niente Cioè io non Non so Non so ne ostacolare A ostacolare Il tuo sogno Ecco Sciacco robot Si è fatto Una kill E Calista Se forse Si è fatta una double kill Oh mio dio Dovevo andare a botte Matteo Avevo visto Calista Che ce l'aveva fatta Mentre invece no Ma se ci vado adesso Matteo botte Non ce la fai Tanto dovrà No vabbè Cioè sei Via Via Vado back A me anche Viene pure tu Matteo Viene pure tu Ti sembra uno Che ci sta per venire No tu mi sembri uno Che sta per venire Matteo Mi sembra Ho l'area di uno Che non sta laggando No tu hai l'area di uno Che sta laggando Eh se puoi coerare la mid Matteo perché ho fatto Una minchia da venire a botte Lo so che hai fatto Una minchia da venire a botte E non recallare Perché adesso Zeda più diverti di te Eh lo so Cioè ho perso Il mio vantaggio Cioè allora Mettiamola così Io Ho lanciato La cosa E l'ho vista Scomparire Qual è il tuo grado Di lag Immagino Eh vabbè Quando poi I minonstessi Mi bloccano Mi impediscono Di doggiare Quella calista succhia Mi Eh vabbè perfetto non mi sto facendo la zonia mi sono dimenticato di farmi la zonia ho sbagliato perché va bene anche quello anche l'eco no 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 guarda che la cosa lì serve anche per fare no 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 togli quel cosino lì toglilo e così devo il bastone colossale eh quello lo so che serve per fare fatti l'altro eh mi sto facendo Matteo il coso il brava io mi dimentico questo problema sono spiegato infatti soldi hanno appena reclato zed in bot lane hanno annullato la ultima gtwp mi devo fare il trinket rosso perché io ho paura che ciò che arrivi in mezzo eccolo là ma ci sta pure il santo lo sciacco non è solo sciacco all'acchi all'acchi mi ha mancato ricordi che eccoli inizio contro erano i miei con non bilanciato quanto era sbilanciato sì perché non mi veniva la parola no quindi capito 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 Matteo che ne dici se se vediamo zed guarda che mi ha visto andare inibot inibot mi ha visto andare a bot a conto per regalo è guardato Matteo vai su Ezreal io non avevo ultato però ah 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 non avevo ultato vado via io non lo recollerei gli fossi in te lo so è tutto un bait Matteo vede stupido abbastanza no comunque abbiamo fatto guarda guarda ho fatto uno di quelle azioni che muah rivengo di nuovo a bot eh ma quello zed è una kill facile uccidilo oddio non ci credo che cazzo ha fatto zed va bene che è stupido ma fino a un certo punto comunque guarda quelle Ezreal Marchi lo vedo Matteo oddio ecco giungla col devoto player mi piace troppo davvero fa danni? no è che mi piace perché? che senso ha? ah dopo lo vedrai ah l'animazione dici? ah? l'animazione dici? no 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 dopo lo vedrai il senso di ecco giungla col devorer si lo so i danni cioè vabbè se ti fai il devore è logico che fai danni Matteo ovviamente se te lo completi no il punto è che dopo vedrai la mia build azed ci sta un po' a scassare il cazzo vieni botlin ma quello sciaco sta tipo sitando bot pesantemente ma gli viene il cancro a Matteo si sta andando a fare il blu credo aspetta aspetta sta arrivando zed no Matteo un reset mi serve lol i dubstep ignite ho fatto Matteo sì ma c'è un Ezreal che muore di ciao ciao Matteo oddio oddio quanti HP sono rimasti Matteo? 90 all'Aki io mi devo vendere delle pozze però perché io sì guarda la mia build ma più che altro sto facendo schifo in questo partito ho solo tre uccisioni al quattordicesimo cosa che hai? solo tre uccisioni ho al quattordicesimo anch'io ne ho tre quindi? con Katarina non è buono oh mamma mia quanto mi sto divertendo è il champion più versatile che abbia mai visto ecco vero perché non ho zoniato perché non ho zoniato perché non ho zoniato ma soprattutto perché Trandol c'è morto ma perché stava sciacobo top perché il mondo mi vuole male va bene allora Matteo cosa facciamo? dai spiegami cosa dovremmo fare adesso cosa tipo andare in bot lane cosa ne dici Matteo? cosa ne dici di lasciarmi formare un attimo? non è ancora completato il devorer guarda che minuto siamo e fai schifo dovresti averlo già completato sì io sono Gesù Cristo dai Matteo io con con Mastery lo completavo al tredicesimo smetti a dire cazzate che lo compravi al tredicesimo tu al massimo da quanto sei forte no Matteo io lo completavo sì sì va bene te lo posso anche dire Matteo perché te lo posso assicurare perché mi facevo il drake ecco perché lo completavo ultavo mi facevo il drake sì sì va bene tutto quello che vuoi Marco non dire cazzate dai certo per l'altro questo Zed è abbastanza lucky cioè non gli sta arrivando nessuna Q quanto non c'è 115 di farm con quello Zed con quello Zed quanto ha? 116 ok no perché ho sentito un attimo lo aggare sai oh ma Shaco veramente Shaco è permabot vorrebbero comprare delle pink Shaco a red sotto i piedi ma chi scappa sta venendo da te sì lo so vabbè Matteo lo sai che Shaco fa danni vero? lo sai che stavo laggando quindi ho capito solo danni Shaco eh questo ho detto alla fine il succo di quello che ho detto è questo Shaco fa danni Matteo quel tanto lo si è appena suicidato io stavo laggando non ho capito una sega ti giuro ho ultato a caso totalmente e non ho capito niente di quello che è successo ma comunque Matteo una cosa se se sappi che se perdiamo un'altra rank ed non gioco più con te non gioco più con te una cosa perchè? perchè? perchè da solo vinco da solo vinci? anch'io e allora perchè stiamo giocando assieme a Matteo perchè mi piace giocare con gli altri invece sono un solitario eh ci piace restare forever alone se un forever alone si va bene guarda i fantasmini di calypiste in botley guarda i fantasmini di calypiste in botley perchè quanti ne ha a 2 tutto è viabile anche il tempo scusa pensavo di poterlo pre.. di averlo preso l'ho ucciso però l'ho ucciso Matteo comunque ho sbagliato di aggiornare troppo ho aggiornato troppo presto no davvero io pensavo di averlo preso di ultimate ho fatto una cazzata ciaco non mi ha più invaso da quando l'ho brochillato ma tu mi hai visto me brochillato? no sei una brutta persona lo so Matteo non ti piace la papapasta col popopo porco dio sei cazzato Matteo no ganca un pochetto di più Matteo perché con lo sciacquo ora posso gancare aspetta mi aspetta mi aspettami sei una merda Matteo ti hanno tipo visto eh ma tipo da cosa lo deduci? lo deduco dal fatto che non mi tira le coca d'arena da cosa me lo deduci? dal fatto che non sono uscito a destinarti i golem e cosa lo deduci? da fatto che ho bisogno di soldi e cosa deduci che c'è un sciacquo in mid? lo deduco Matteo lo deduco che ha tutta una partita del campo no vabbè tutta una partita no però sai che stavo per premere R su quello sciacquo? ma perchè lo stai per fare? ho presi io tranne uno oh merda e te ne volevo solo uno ti giuro ho fatto una di quelle laggate che ha detto da malamente Matteo cosa? è quello Zed cioè ti ha tirato la Q con l'ombra pure io non ci vado ancora Matteo perché non hanno abbastanza hanno troppo troppa vita ancora adesso ci posso... Matteo partici facci partici Matteo Marco? eh? c'è qualcosa che io ho visto dentro che ha fatto lei sul posto hai... lo 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 l'ho sentito Matteo che hai laggato l'ho sentito tranquillo ho detto che ho visto Ezra e che ha fatto lei sul posto appunto non ti devi scusare l'ho visto che... l'ho sentito che hai laggato la DS ragazzi stiamo registrando con Matteo che lagga perchè abbiamo bisogno di video semplicemente non per altro eh si sapeva perchè io porto visual xd no semplicemente perchè non so che cazzo registrare eh dato perchè io le idee non è vero mai infatti l'idea è venuta a me per questo salvo è morto no veramente i... è venuta a me Marco se ti ricordi però sono dettagli davvero davvero Matteo si eh come... ti è venuta? eh marchese facciamo una road to gold ok no tu hai detto road to platino ecco e poi la persona da road to gold è vero ora mi ricordo no perchè poi una road to platino non finisce più no vabbè magari... no la road to gold non finisce più perchè tu non sei ancora arrivato in silver Matteo non è colpa mia ok? si che è colpa tua allora Matteo l'abbiamo visto noi stessi il team di prima dio sa dio santo zitto zitto è colpa tua sei che ti sto per... sei che sto per giocare a Timo vero? gioco eh capirai io ho Timo Kodaba tu fuori guardami la botta in overextesa solo per applicarti il cancro lo faccio Matteo cioè applicarmi il cancro ok ok anche però sciacca è davvero è davvero e davvero sempre botta guardami la mia attack speed è davvero sempre botte guarda la pa 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 pasta col po 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 dio potò non so come mai oggi sono allegro ma non sei felice di essere felice? Cioè, no, perché in realtà dovrei essere più triste Perché? Ha morto un caro amico di famiglia Ah Ottimo Cioè, vabbè Ma te non eri nel range Eh no Sta arrivando top Trattienilo Gioca con lui Gioca con lui, cazzo è un cane È un cane, ma te Matteo, gioca con lui È qua, gioca con lui Non so dove sia Cosa sta facendo Trandol? Sta proxy farmando Ovvio Perché se stai in parte a me c'è Shako, ne sono sicuro Eccolo È la copia Quanto è scontato Shako che Sai come capisci che è la copia, ma te Ho movimenti stupidi Ma chi vuoi vederlo una cosa? Guardami Ok, proprio guarda la visuale su di me Eh... Sì Guarda Ma quella è la build per farmare, Matteo Non è la build per fare male È la build per? È la build per farmare, non per fare male Sei scemo No Perché la guinzo non fa male Cheat Chi è che l'ha detta questa? Me stesso quando ero... Quando ero... Quando è stata introdotta Sì, sì Tu quando eri... Quando eri ubriaco Cheat marchi Isostemi Ricordiamocelo Non ci scherzate su questa cosa, Matteo Non è colpa mia se sono a Stemi Uffa Oh sì, che lo è Do it, Matteo Make your dreams fucking come true Ha già ultato Quanti danni hai fatto, Matteo? Io? Non è la build per far danni È la build per farmare Matteo, ma stavo scherzando Dio porco, non lo capisci? Lo so Ma mi piace rifacciarti le cose Ma l'ho detto per scherzare Dio maiale Eh, cosa? A me piace rifacciarti le cose Posso avere un... No Puoi avere un... Una fetta di cazzo? Evidentemente no, Matteo Ha! Chissà dove è andato Shaco Matteo, vieni top Sì Andiamo Ah, marchi Eh Sai che tra poco mi faccio un'idra titanica? Sai che mi hanno fai dato senza di noi? Sai che le potrei andare a farmi una... Una bella quadra? Vai Eh no, ormai siamo qua Ho preso un assist Posso beccare Mi faccio... Faccio un relay Io non so se farmi un relay Per rallentare E quindi fare più danni con la ultimate Oppure farmi un Rabadon Dato che mi fa il 35% di AP Che gli dici, Matteo? Relay o Rabadon? Relay Grazie per la risposta, comunque Sto arrivando Prego Era quello vero, quello Shaco Davvero? Ma sei serio? È così scarso? Sai che oggi stavo giocando Con Echo Ero top tank contro Darius Ero 9 1 E Darius mi scrive Ecco Smarth E io gli faccio Yes, Diamond Smarth 4 Daren the War again E fanno Eloi Ex Diamond Fire Last Season Diamond 5 And in Season 4 Diamond 1 Ah mamma mia che genio che sono E quindi? Quindi quello di chi ha creduto Gli ho detto che sono lo smart di Daren Sai chi è Daren, no? Sì Allora E ti ripeto e quindi? Niente Marco, sei solo stupido E quindi? Quindi ti devo Dovevi essere una Volevo venirmi da salvarti io Lo so E quindi? E quindi? Cosa mi rappresenta questo Questo venirmi a salvare Che poi sei morto anche tu Hai fatto una ulti di merda No era per salvarmi Ma mi mancava un secondo La E quindi vabbè E questo è l'altro Quello Shaco è l'unico che dà problemi Figa Sì Sì A me i danni Me li ha fatti Shaco Ah è la ulti di Ezreal Che poi la ulti di Ezreal Ma te C'è proprio Come dire Cioè come è finita la Zonia E la ulti è passata C'è proprio Coordinato Papà lo stavo vedendo Ah? Eh stavo vedendo Non preoccuparti Stavo 100% eh Sì proprio 100% Stavo guardando Martisio Mi sto guardando in top In questo momento Perché Naso su Vuole farsi la torre Tu guarda la mia build Ma ce la fa Ce la fa Ma non saprei vivere Guarda quanto è piccolo Nasus Non ci voglio credere No Matteo Non l'hai visto Guarda quanto è piccolo Nasus E per me se lo uccideva Matteo E per me se lo uccideva Matteo Mi danni che ho fatto Per me se lo uccideva Alla Marchì adesso provo a fare E Con l'idrativa basic Vediamo quanto faccio qualcuno Tu Quanto dici Dico che sono morto Perché questo sciacco Dio santo Non te lo puoi vedere Matteo Va bene Io che sto avanti Però sciacco Ti arriva da invisibile E' un cancro Matteo Te lo vedono Quel coso Matteo Anche se No non me lo vedono Sì che si vede Zitto JK Vabbè io sto facendo cagare Questa Questa partita invece La sta giocando bene Matteo Forse Che non è detto Che la stia giocando bene Ah magari mi completo Le scarpe Vediamo Oh mio dio Non le hai ancora fatte Vero No E tu eri contro Z E non hai fatto le scarpe No E vabbè Marco GG Perché non le dovevo fare Matteo Ma Avevo forse Per la mobility Avevo l'eco L'eco Che mi dà la stessa quantità Delle scarpe Che ho controllato Bell'ultimate Nasus Poi report Zed Non lo capisco perché Perché Zed Ho giocato bene Però Figlio di Troia Marco Ora tipo Ora tipo Sciotto No Sai cosa significa Sciotto Significa Che vai Dal Spidati se faccio E Idrattiva Più la passiva Della Deadman's Plate Basic Sciotto qualcuno Tipo Nasus No 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 Si Saco Si Si Saco A meno vita Di Ezreal Vero Perché è una build di merda Scrauso Con la build di merda Che non può carriare Guarda Trandol che è un coglione Ma chi Chi è un coglione Ma chi Trandol Perché Cosa ha fatto Stavamo spammando in faccia Zed E quindi E quindi è un coglione quel Trandol Potrà sembrare ripetitivo E quindi Quindi c'è la mamma troia Marchisio E quindi E quindi ho appena fatto danni Tanti danni No Prova a dirlo Ti picchio E quindi Ma però se no Ma non so Quante stack C'ha Ah Poca Quante ne ha 500 Ah Ok poche No Ne ha veramente poche Eh Cosa ho detto Matteo Ma che cazzo calcola Quello che dici tu Ah Guardami 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 Ma tu che cazzo hai fatto Perché sono andato nella fontana Perché volevo andarci Ma perché Matteo Perché no Ma Quattro Non è morto Ora so cosa serve la zona Matteo Ho visto per Eh Buongiorno Apri un ex tech dopo questo lo sai Davvero Io non credo proprio perché non ho avuto nessun Non credo di aver preso S Però bene dai Vabbè Mi ho preso S prima Nella scorsa partita e quella che ho perso Oh invece no Aspetta Sì ho preso S Ah da te Giusto perché mi ho preso S Io ho tenuto S E quindi lo posso vendere pure io la cesta Ah ma sono quattro al mese quindi No sono per ogni champion No Matteo per ogni champion Ah ok allora perfetto Sto a posto A quanto ho capito Un po' no Dai ragazzi apriamo Apriamo la cassa dai L'abbiamo in diretta Matteo Hai una chiave? Teoricamente sì ho tre chiavi Allora fallo Non mi ha dato un frammento Non mi ha dato un frammento Devo vincerne un'altra Spacchettamento in diretta Ecco la chiave Ecco la cassa Apriamola Vediamo Cosa ci capita Draven pool party Che culo Eh? Basta ok Solo Solo Draven Ah io la prenderei quella skin Eh Aspetta questo devo fare Pool case No upgrade Ok sì mi servono Quindi Disenchantiamo questa skin Che non mi serve E prendiamoci Riesce a prendertela? Sì che la posso No aspetta Devo soltanto ricaricare Ok No Matteo Ho 685 essenze Ma non me la fa fare Mi fa fare upgrade to skin permanent Perché no? Non lo so Ah perché devo comprare Draven prima Ok quindi ragazzi Guarda che dura solo una settimana Quella skin In che senso? Dura sette giorni Porca troia Matteo O 2000 O 2000 p Nerdiamo Quindi ragazzi Per questo è tutto Vi saluto Ciao a tutti Ciao a tutti